103 euro i risparmi messi da parte per l'acquisto dei loro giochi. Non ci hanno pensato due volte tre giovanissimi tifosi del Vicenza Calcio. Spaccati i loro salvadanai, il contenuto è stato consegnato nelle mani sicure del curatore fallimentare Nevio De Bortoli. Alberto, Edoardo e Achille ci credono. Il Vicenza Calcio non deve morire e nonostante la pesantissima situazione finanziaria, deve continuare a battersi in questo campionato. Una goccia nel mare del milione di euro necessari per finire la stagione, ma tre bambini hanno dimostrato più generosità del mondo impreditoriale vicentino che per ora sta alla finestra senza scendere in campo. Intanto proseguono le numerose iniziative ideate dal curatore, dalla vendita dei seggiolini allo Stadio Menti, alle bottiglie con la R di una nota azienda vitivinicola di Breganze, per concludere con le uova e colombe pasquali prodotte da una famosa pasticceria. Il gol più bello, la lana e spera insomma ancora di poterlo segnare.